Hello and welcome to the body VR, an immersive tour through the human body. Please keep your heads and feet inside the platform at all the times. Ok ragazzi, ho trovato una nuova demo visiva grafica, quello che è. Si chiama Vebo di Viare, credo sia un viaggio all'esplorazione del corpo umano, immagino. Credo che sia una cosa più per una cosa educativa, tipo per le scuole, per queste cose qui. Un esempio di come potrebbe essere in futuro l'educazione nelle scuole. Giusto perché noi della generazione vecchia dobbiamo rosicare per il tipo di educazione che avranno i nostri figli. Mi sembra più che giusto. Ok, bando alle ciance, alle ciance e iniziamo. Non dovrebbero esserci interazioni, soltanto devo, vedete, puntare lo start. E... iniziamo! Ok, sono dentro una sorta di sfera stile Jurassic World, la cosa mi preoccupa ma va bene. Iniziamo! Ok, questo è Rick and Morty. Vabbè. Questa è una vena. Wow. Stiamo entrando nel cuore. Ok. 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 Fichissimo! E' tuttum e il cuore! e sono il 3% del totale ok ok wow we are currently on the outside of the macrophage within an infected tissue macrophago looking at its surface a typical cell membrane structure Ci sono mille di proteine di receptor sulla superficie della cella alcuni di questi proteine sono trasferiti con la informazione e altri con la cargola che lo voglio in italiano Larger moleculi, come la glucosa entra through small pumps or channels Large objects like viruses require recognition or keys to gain access thus preventing unauthorized entrance Fortunately, I have a counterfeit key that's identical to a real one We are now entering the cell Wow Siamo dentro una cellula A macrophage has pulled us in and we are submerged in the cytoplasm a gel made mostly of water The cytoskeleton is made up of a network of adjustable strands that gives the cell its structure There are three different types of strands that make up the cytoskeleton Microfilaments are the thinnest strand measuring only 7 nanometers in diameter 7 nanometri Intermediate filaments are made of the protein sono millesimi di millimetro and have a diameter of 10 nanometri 10 millesimi di millimetro Wow Lastly, microtubules have a diameter of 24 nanometres which is wide enough to be used for transport A special type of protein called kinzen motor protein has the ability to walk along microtubules It latches onto larger structure and transports them around the cell Energy is available in the cytoplasm in the form of ATP molecules ATP binds with kinzen and propels it forward With each step the kinzen takes it binds with an ATP molecule and releases an ADP molecule In real time Kinzen walks up to 100 steps per second The kinzen protein is heading straight for the cell's nucleus Let's tag along for a ride Ok Ok We are now approaching the nucleus Oh wow The center of the cell Ok The surface of the nucleus has its own membrane similar to that of the cell Wow Ok Mamma mia Paws are spread around the surface of the nucleus to allow entry and exit of larger molecules Ok Protein filaments are located around the edge to facilitate the transport Fatti di proteine Cioè sto capendo poco anch'io di quello che dicono perché è in inglese è solo che ho fatto medicina a scuola quindi so come è fatta una cellula ed è E Non Non è è fuori dal mondo sta cosa ragazzi Wow Come è fatto il nucleo della cellula Oh wow Oh wow Oh wow My god Oh wow C'è C'è No C'è Deoxyryponucleic acid C'è Sì Si lo so E si trova lì dentro Ok C'è Ora stiamo uscendo No No Let's exit the nucleus Through a nuclear pool Wow C'è Immaginate una roba del genere nelle scuole My god We have exited We have exited the nucleus And are now floating Through the cytoplasm Surrounding the nucleus Is the rough endoplasmic reticulum Or RER A maze like structure Made a flattened membrane Studied with ribosomes The RER Maintains a vital role In protein synthesis Ribosomes link together amino acids Following the instructions received From the RNA The created protein Is fed from the ribosome Into the RER Which then folds the protein Into a specific shape The protein is then transported In a vesicle Made from a portion Of the RER Non ho parole ragazzi Non so proprio che cosa dire Stupendo Mitocondri Sì Generano l'ATP L'adenosine triphosphate E mi ricordo le mie lezioni Di anatomia di chimica Take the pyruvate And convert it into carbon dioxide And water Releasing ATP In the process This energy is used In many cellular processes Such as biosynthetic reactions L'ATP è anche nel muovere i muscoli And cell division Oh mamma Cioè Buona parole Oh dio È assurdo ragazzi Stavo guardando quanto tempo Mancava alla fine Della telecamera Perché Ok Siamo fuori Di nuovo Cos'è? È un virus Oh my god Questi sono gli anticorpi Guardate come li si attaccano Together The antibodies And white blood cells Form the front line Of our immune system Wow Non me l'ero mai immaginata Così sta cosa io Guarda che roba Thousands of viruses Have made it past the antibodies The viruses overcome the defenses And some viruses Are able to enter the cell Using counterfeit keys It's too many viruses It looks like the cell Is not going to survive Oh dio Oh dio Oh mamma That completes our journey Through the human body Oddio No, è già finito Ma E finisce così Ok No Raga, ok, ero ancora in telecamera Perfetto, mi sono un po' allontanato perché non capivo che cosa sta succedendo Wow Ok Figa, spero che l'audio si sentirà bene perché non ho idea di che cosa sia successo Ok, avevo dimenticato l'audio Ho registrato praticamente tre volte il mio audio Va bene, ok Sarà un casino editare questa cosa Ma Wow Allora, io ho studiato medicina Ok Ingrandiamo il tutto Così parliamo tranquilli noi Dicevo, io ho studiato medicina Ok Da giovine Giovine un po' di anni fa Eh, e quindi queste cose le ho studiate, no? Le DNA, le cellule, virus, anticorpi, eccetera E In video In video profondamente chiunque inizierà a studiare a scuola con questi aggeggi Perché È una figata Io lo vorrei tantissimo in italiano questo affare Per farlo vedere ai miei nipoti Così impari queste cose Perché le vedi come se fossi lì È una figata Sti cacchi Wow Non ho altro da dire Sono estere fatto E Continuo a dire Io queste cose le sto vedendo Con il DK2 Che Alla fin fine non è a livello del DK1 Oddio No Aspetta È partita la D Oddio Ok Morto tutto Ok Ragazzi Questo era VEBODY VR Spero veramente che questo video vi sia piaciuto L'avete trovato interessante E se avete un Oculus Rift di K2 Vi mi raccomando Scaricatevi l'Oculus Home Scaricatevi questi programmi Queste demo Che sono completamente gratuite E provatele voi stessi Perché meritano veramente Sono davvero una figata Quest'anno Quest'anno Ce lo ricorderemo tutti Per un bel po' di tempo Perché È un anno In cui Abbiamo fatto un passo Da gigante Nell'andamento tecnologico E in tutto Anche nell'educazione Perché Fai una lezione A dei ragazzini Con una roba del genere E quei ragazzini All'esame La sapranno a memoria Sta roba Perché È troppo figo Cioè Sei dentro il corpo Alla Rick and Morty Il Body World Come cavolo si chiama Ok Ragazzi Come ho già detto The Body VR Il video finisce qui Spero che vi sia piaciuto In tal caso Cliccate se mi piace Commentate Iscrivetevi al mio canale Per altri video Ricordatemi che trovate Ricordatemi Ricordate che mi trovate Anche su Twitter E Facebook E noi Ci vediamo Alla prossima Cali64 Vi saluto Ciao ciao Wow Troppo figo Ciao